Parte la ricca stagione di eventi estivi proposta da Domobianca 365, che dopo intense settimane di lavori è pronta ad ospitare visitatori e turisti. Sport, musica ed enogastronomia, tante le occasioni da puntarsi in calendario per vivere una giornata in montagna all'aria aperta. Tra le iniziative anche tre festival musicali. Sì, assolutamente. Sono tre anni che proponiamo questo format. È un format che ha riscosso molto successo negli anni scorsi. Tant'è che più passano gli anni e più sono le varie associazioni che organizzano questi festival a cercarci per poter organizzare il loro festival. Di questo siamo estremamente felici. I festival quest'anno saranno tre. Il Why Not Dub Festival, un festival di musica alternativa che si terrà il 2, 3 e 4 giugno, quindi la prossima settimana. Poi avremo il 25 di giugno il Mountain Sound Festival e il 15 di luglio il Carmageddon. Oltre a questo tutti i weekend musica e DJ set. I nostri ragazzi e la nostra squadra hanno presentato oggi un programma estivo molto impegnativo ma riteniamo entusiasmante per quello che è l'offerta turistica. Tanti eventi sostanzialmente tutti i weekend. Una proposta e un'iniziativa che dedichiamo al sociale sviluppata con Salvatore Ranieri e Altair Contro Tutti dove ufficialmente con oggi noi sfidiamo tutte le aziende e le amministrazioni del DCO in questa gara canora. Altair ha messo insieme, metterà insieme una sua band e sfideremo in questa gara canora dove sarà il pubblico a giudicare tutte le aziende e tutte le amministrazioni locali. Anche la missione di Domodossola parteciperà con la sua band. Il ricavato andrà in beneficenza, ha un modo per stare insieme e fare del bene. Sicuramente un ventaglio di eventi positivo per il Comune assolano. Dobbiamo sempre tenere presente che lo sviluppo turistico dell'Alpe Lusentino è una grande opportunità per il nostro intero territorio. Significa aumento di flussi turistici, aumento di turisti che spendono sul nostro territorio portando un contributo importante all'economia complessiva della città di Domodossola. È uno sviluppo che chiaramente deve guardare a un'ecosostenibilità e in questo modo stiamo lavorando guardando al futuro. Quindi uno sviluppo turistico perfettamente integrato con la città di Domodossola.